innanzitutto l'articolo trenta due è una novità assoluta nel panorama del costituzionalismo novecentesco eh perché è una novità assoluta perché ragiona in maniera diversa da come ragionano gli altri articoli che attribuiscono diritti e vado subito a eh chiarire il concetto l'articolo trentadue recita la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti quindi l'articolo trentadue riconosce tre accezioni di salute un fondamentale diritto quindi un diritto di libertà un interesse della collettività e la accezione novecentesca sociale del diritto alla salute diritto sociale alla salute perché è una novità assoluta nel panorama del costituzionalismo novecentesco perché è l'unica costituzione in cui la salute viene riconosciuta come un diritto di libertà non solo viene riconosciuta come un diritto di libertà ma addirittura l'unica volta in cui la costituzione aggettiva un diritto come fondamentale è proprio con riferimento alla salute non che ci sia solo il diritto alla salute come diritto fondamentale però avrà pure un motivo l'uso accorto della terminologia che i costituenti sceglievano per avere avranno avuto pure un motivo i costituenti per attribuire solo alla salute l'aggettivo fondamentale questo articolo quindi riconosce tutte le accezioni di salute l'accezione originaria che è l'accezione tradizionale di salute interesse della collettività che cosa significa salute come interesse della collettività significa tutela della salute pubblica la salute viene all'attenzione degli ordinamenti moderni quando gli studi di igiene comprendono come dire l'eziologia del contagio delle malattie infettive e quindi gli stati si dotano di apparati e strutture per tutelare la salute pubblica quindi per prevenire le malattie riconosce anche l'accezione più moderna novecentesca del diritto sociale alla salute ma come dire unico articolo fondamentale unica costituzione che dice guardate la salute è un fondamentale diritto di libertà di libertà di libertà che va eh bilanciato con l'interesse della collettività alla salute perché se sono chiaramente i costituenti comprendevano bene che la tutela della salute pubblica implicasse delle misure restrittive della libertà individuale e quindi bisognava bilanciare l'interesse della collettività con il fondamentale diritto dell'individuo